Buongiorno a tutti, con questo piccolo video vogliamo salutare i nostri clienti e amici e invitarvi a rimanere in contatto con noi attraverso la nostra pagina ABC Camper by ABC Works su Facebook e controllando i vari aggiornamenti nelle sezioni consigli, tecnica e camper usati sul nostro sito www.camper.it. Purtroppo la situazione attuale non ci permette di stare aperti né di continuare a fare il nostro lavoro in officina, quindi dobbiamo riaggiornarci alla fine di questa emergenza che purtroppo coinvolge quasi tutti i settori produttivi italiani. Vorrei farvi un grande augurio, spero che tutti voi stiate bene e che ci possiamo rivedere per parlare di vacanze al più presto. Per qualunque informazione o necessità o anche solo curiosità rimaniamo a disposizione vostra e dei vostri amici camperisti con il nostro numero 329 37 87 110. Attivo tutti i giorni dalle 8.30 fino alle 12.30 e dalle 15 fino alle 21.00. Questo per tutto il tempo necessario e fino a che durerà questa forzata quarantena. Un boccaduto a tutti voi.